Pronto? Buonasera a te e all'amico ospite, Bari in testa o solo Bari? Bari in testa. Ormai le partite sono andate, l'ammarico è lì dove eravamo in vantaggio, dove c'è stato un certo lassismo nel cercare di difendersi per portare a caso risultati. Ora non è l'ultimo a spiaggia quel col Catania, neanche le prossime sicuramente. Però bisogna fare dei punti adesso. Quello che siamo abituati noi, tu lo sai, sono tifosi da 60 anni, noi abbiamo visto il Bari 90 volte su 100 tirare fuori gli artigli, ciò che non abbiamo visto. Quindi io dico, non è l'ultima a spiaggia, però come se fosse l'ultima a spiaggia ne devono entrare col coltello fra i denti. Io vorrei vedere anche questo tipo di Bari, questo è il suggerimento che modestamente come vecchio tifoso e appassionato posso dare avventura e di mettere una formazione da battaglia, visto che i nostri tecnici sono fuori adesso per vari motivi. Grazie. 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 Per il secondo anno stiamo organizzando il Memorial Guido Signorile per un nemico che purtroppo ci ha lasciato all'età di 27 anni. Stiamo organizzando un triangolare in cui parteciperanno anche, oltre ai giornalisti, ringrazio Antonio Raimondo e anche te Enzo perché mi stai dando la possibilità di dirlo, per la squadra dei giornalisti. Ringrazio Salvatore Guastella che mi sta aiutando per cercare, per fare la squadra degli ex giocatori. E noi dal canto nostro siamo riusciti a portare Igor Protti. L'appuntamento, Enzo vorrei dire anche un'altra cosa che è importantissima perché purtroppo alcune volte la sfortuna si accanisce, proprio sabato scorso è morto a 33 anni il cugino di Guido, quindi un pensiero sarà sicuramente rivolto anche a lui. Quindi verrà anche Igor Protti e faremo questo triangolare. Il secondo Memorial di Salvatore.